ciao a tutti siamo qui al paddle di acqua sparta per farvi vedere un minimo di coppa umbra che si sta disputando in questo momento un evento molto molto bello l'h2o sparta paddle di acqua sparta e ora cerco di farvi vedere comunque per quanto mi sia possibile il tutto come vedete questo è il classico campo da cioè l'ingresso dell'h2o sparta paddle dove si sta disputando il tutto cerchiamo comunque di vedere vedete ci sono dei giocatori che stanno giocando le partite perché appunto è un torneo molto molto richiesto l'h2o sparta paddle ospita la coppa umbra e il torneo molto avvicente per gli spettatori di paddle quindi vi invito insomma a recarvi all'h2o sparta paddle per giocare a paddle per fare tutto quello che più vi piace che perché paddle è uno sport che comunque per il covid è possibile farlo quindi non avrete problemi a giocare e quindi l'h2o sparta paddle di acqua sparta vi aspetta ci sono molte 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 persone che stanno come potete può vedere guardando la partita e quindi per tutte le informazioni venite all'h2o sparta paddle per sapere anche quali sono gli eventi e le partite successive ci sono Grazie.